Quando l'attività di conservazione interessa documenti preziosi come quelli custoditi dall'archivio segreto Vaticano, il restauro è solo uno dei suoi numerosi aspetti. La salvaguardia di un simile tesoro, testimonianze uniche della storia della Chiesa, passa anche attraverso un vero e proprio set fotografico, tra scatti, luci e tecnologie di nuova generazione. Per difendere dalle insidie del tempo questo monumentale patrimonio archivistico dal 2003, qui nel laboratorio fotografico e di riproduzione digitale, i documenti dell'archivio pontificio sono trasformati in fotogrammi. Migliaia di immagini in formato digitale per ridurre al minimo i rischi di degrado di cui possono essere oggetto gli scritti originali durante la consultazione diretta, rendendoli così immediatamente accessibili ad un numero sempre maggiore di ricercatori. Manoscritti stampati, pergamene a supporti diversi corrispondono differenti accorgimenti fotografici, come sottolinea il responsabile del laboratorio Enrico Ottaviani. Per nostra scelta abbiamo deciso di utilizzare fotocamere digitali e non scanner per salvaguardare l'integrità del documento. I documenti presenti in archivio sono di materiale diverso e di dimensioni diverse. Possiamo avere pergamene o carta e non solo. Un'altra tipologia di documento che abbiamo qui in archivio è il sigillo. Naturalmente le tecniche fotografiche per riprodurre un sigillo sono diverse dalla riproduzione di una pergamena o di un semplice foglio di carta. I sigilli presenti in archivio sono di materiali diversi. Abbiamo sigilli in cera, sigilli in piombo e sigilli in oro. Il problema principale dei sigilli in oro è la rifrazione della luce, quindi devono essere utilizzate delle tecniche fotografiche per poter ovviare a questo tipo di problematiche. Una luce radente deve essere posizionata lateralmente per evitare problemi di rifrazioni di luce e mettere in evidenza il rilievo stesso del sigillo. Un'istituzione antica come l'archivio segreto Vaticano utilizza le possibilità offerte dalle nuove tecnologie con la digitalizzazione di un patrimonio documentale unico nel suo genere. Si conferma così lo spirito di accoglienza e la costante attenzione che l'archivio dei papi rivolge alle esigenze dei suoi studiosi, da quando nel 1881 Leone XIII decise di aprirne le porte ai ricercatori di tutto il mondo. Ogni anno le sue mura ne accolgono più di mille, ed è proprio qui nella sala Indici con la consultazione degli schedari che hanno inizio le indagini degli studiosi. Compilata la richiesta nella sala Pio XI, ogni ricercatore riceverà dal personale dell'archivio i documenti originali. Alcuni dei locali intitolati Assisto V sono dedicati alla visualizzazione delle riproduzioni digitali del materiale, grazie anche al lavoro che quotidianamente svolge la sezione informatica dell'archivio pontificio. La ricchezza dei fondi, la diversità e l'eccellenza degli strumenti messi a disposizione degli studiosi fanno dell'archivio segreto vaticano un tempio del sapere, il cui servizio, dunque, va ben oltre la salvaguardia del proprio tesoro. Testimonianze dell'attività millenaria della Chiesa entrano in contatto con la sensibilità e le conoscenze di studiosi provenienti da ogni angolo della terra, dando vita così ad un patrimonio culturale in continua evoluzione.